Dopo aver visto in anteprima la versione 2023 di Mazda CX-5, quella che c'è qua alle mie spalle, che si è aggiornata in questo model year con alcune novità interessanti a partire da quello che avevamo già visto come la firma ottica diurna che è stata cambiata oppure nuovi equipaggiamenti di serie, beh è giunto il momento di guidarla per capire effettivamente che senso ha questo modello all'interno della gamma perché ammetto che catalizzato dall'entusiasmo dovuto alla presentazione della CX-60 questa CX-5 è passata un pochettino in secondo piano ma guidandola per un po' di tempo mi sono accorto che lei è sempre stata, è ancora ed ora come sempre, vabbè passatemi questa cavolata, la vera ammiraglia di Mazda e adesso vi spiego bene come mai. Lei è un prodotto che ormai conosciamo sul mercato da tanto tempo, nei suoi 4,55 metri di lunghezza va a condensare sicuramente ciò che Mazda ha sempre ritenuto essere la vera ammiraglia della casa, una porta bandiera non solo di tutte le tecnologie della casa ma anche e soprattutto del design codo di cui CX-5 ne è un esponente sicuramente molto valida. Una vettura che piace, piace tantissimo, ha delle forme affuslate, delle linee tirate in modo molto furbo perché vedete questo design monolitico evita la creazione di inutili punti di tensione, guardate tra l'altro come è bella lucida perché è praticamente nuova questa che mi hanno dato, che fa sì che il design nel tempo continui a rimanere sicuramente molto più moderno e non senta il peso del tempo. Se poi viene anche scelta la colorazione Soul Red Crystal che su tutte le Mazda è veramente una ciliegia perché proprio una ciliegina di colorazione, beh, abbiamo sicuramente un prodotto molto interessante che mantiene un'intrinseca cattiveria soprattutto della parte frontale perché incastonati in questo bicchiere della corazzeria ci sono i gruppi ottici che adesso hanno uno sguardo secondo me molto molto bello, il più bello di sempre di CX-5, molto cattivo, questo griglione in nero lucido enorme, tra l'altro con una bella trama e soprattutto, non so se lo vedete, un lavoro di carrozzeria che le crea praticamente questo shark nose molto molto evidente che nella vista frontale la rende sicuramente molto accattivante. E oltre al livello, anzi oltre al design estetico esterno ci sono anche delle cose molto carine all'interno perché aperte le portiere ci troviamo dinnanzi a un abitacolo che nel tempo è maturato davvero tanto e che in pieno stile Mazda va a coniugare la praticità perché qua non troveremo nulla di poco pratico, abbiamo i tasti fisici, abbiamo dei comandi posizionati bene, abbiamo una qualità costruttiva davvero elevata anche a livello di materiali come queste pelli utilizzate per i sedili, abbiamo delle tecnologie non solo per la ventilazione e riscaldamento dei sedili che tra l'altro in questa versione My 2023, so che è il modelier però io la chiamo My 2023, sono anche di serie e soprattutto una qualità a livello di materiali e assemblaggi davvero notevole ed è un po' il canto del cigno di questo modello perché avere un modello in gamma da tanto tempo e continuare ad aggiornarlo ed ogni aggiornamento migliorarlo fa sì che questa vettura sia oggettivamente molto matura e parleremo tanto di maturità in questa prova, comunque vi faccio vedere anche gli interni che sono estremamente razionali ma pieni di tecnologia, davanti a me è un quadro strumenti digitale nella parte centrale che va a simulare poi anche il tachimetro, abbiamo il contagiri, abbiamo gli indicatori per la temperatura acqua e la lancetta del carburante che sono analogici, poi nella parte centrale possiamo andare a modificare tutte le schermate che vogliamo e far venire fuori tutti gli strumenti che preferiamo. Qua davanti, non so se si vede con la luce, forse devo accendere la vettura e accendiamola, abbiamo un head-up display molto molto grande che ci aiuta ad avere le informazioni durante la guida ma anche le informazioni sull'assistenza dell'auto perché qua abbiamo un'assistenza alla guida di livello 2 avanzata che funziona molto bene, un sistema infotelematico che si è aggiornato, è touch, sì funziona solo da fermi per scelta di Mazda però probabilmente arriverà la possibilità esattamente come su CX60 di avere la possibilità del touchscreen anche quando siamo in movimento senza usare la rotella. Però vi confermo e vi assicuro che una volta fatta l'abitudine, ci vogliono davvero poche ore, tutto sommato è molto pratica perché con un gesto molto naturale durante la guida, senza andare a toccare qua davanti ma utilizzando soltanto la manopola, si comanda tutto, soprattutto anzi anche con l'interfaccia di Android Auto ed Apple CarPlay, Apple CarPlay ancora un filino meglio, in pochi clacchi, in pochi movimenti rotativi si va praticamente a ingaggiare qualsiasi funzione senza troppe paranoie. Volante multifunzione, non ve lo spiego, comandi del clima rigorosamente fisici, non abbiamo superfici soft touch, tasto start and stop, le bocchette della climatizzazione che vengono incastonate secondo me in modo molto bello qua nella plancia, plancia che risulta a livello di materiale molto morbida e con questi elementi che vanno invece a dare un tocco di personalizzazione che dipende ovviamente dai trim che vengono scelti. I sedili sono incredibilmente confortevoli e una delle prime caratteristiche che mi ha, tra virgolette, sorpreso di CX5 è la sua comodità. Questa è una posizione di guida, è inutile nasconderlo, alta, mi fa guidare in modo molto alto, molto confortevole, molto rilassato. Questa è una delle poche macchine che anche in tantissimi chilometri percorsi non mi ha mai fatto soffrire. Posizione di guida secondo me è perfetta, molto rilassata, anche i lunghissimi viaggi vengono portati a termine senza fastidio sulla schiena e non è una cosa da poco, quindi è una macchina che predilige sicuramente la comodità. Poi continuando qua nella parte centrale abbiamo il comando e lo vedete che è un leveraggio, deve essere accesa la vettura giustamente, che è un leveraggio fisico perché c'è un link con i tiranti al cambio automatico e abbiamo poi la rotella di sistema con cui comandiamo tutto il sistema infotelematico, testi di volume, piccolo pannellino con i richiami rapidi per le varie funzioni, per il non ristazionamento elettronico, due capolder, tantissimi vani per riporre oggetti tra l'altro molto capienti dove sono nascoste anche delle prese USB di tipo C, sia davanti che dietro e in generale una qualità, lo vediamo anche, non so se si vede dalla telecamera, anche all'interno di questi vani molto curata perché abbiamo poi tutto un rivestimento morbido di tutti gli sportelli. Tra l'altro ci sono altri dettagli che fanno capire che questa è una vettura che non deve minimamente passare in secondo piano da quando è stata presentata la CX60 come ad esempio anche i vetri doppi laminati qua davanti quindi sono vetri che favoriscono l'isolamento acustico rispetto all'esterno, un isolamento acustico che è molto curato anche adesso con il motore acceso probabilmente non l'avrete neanche sentito perché lo sentiamo molto lontano nonostante questa sia l'unità 2002 diesel, 4 cilindri che rispetto al benzina ovviamente fa molto più onore invece qua la sentiamo molto distante ed è una cosa che ho apprezzato tanto anche in virtù del fatto che il 2002 diesel non è un motore così recente quindi tutto sommato bravi. Ma vi volevo far vedere come si sta dietro perché questa è una perfetta auto da famiglia in virtù del suo passo di 2,70 che garantisce uno sviluppo della zona posteriore molto molto ben studiato il sedile è abbattuto e tra poco vi faccio vedere come mai perché anche qua dietro la seduta è veramente alta quindi non si sta incastrati nella posizione qua sulla panca del sedile posteriore e anche l'accesso è molto comodo, ho uno sviluppo in altezza davvero notevole quindi non andrò mai a toccare con la testa il tettuccio e soprattutto ho uno spazio vivibile davvero non male tra l'altro guardate semplicemente avanzando un pochettino i piedi vado ad appoggiare anche le gambe tutto a favore del comfort, anche qua dietro la qualità costruttiva è davvero notevole le parti in plastica sono solo sotto, tutte le altre parti sono invece morbide la climatizzazione ovviamente arriva anche qua dietro inutile dirlo e un bagagliaio che non è male andiamo a vederlo nel dettaglio alzando il portellone qua dietro e scopriremo che noi abbiamo accesso a una disposizione di tutte le parti è molto furba in configurazione con i sedili tutti alzati siamo poco oltre 500 litri sono davvero tantissimi e ben sfruttabili perché guardate quanto è piano il vano di carico tra l'altro si possono fare dei magheggi perché se si sollevano queste parti qua sotto non abbiamo la ruota di scorta si possono anche in realtà alzare, adesso sono al livello più basso, lo vedete abbiamo un doppio scalino quando si vanno ad alzare e si vanno a battere tutti i sedili e i sedili possono essere abbattuti singolarmente direttamente da qua dietro diamogli un aiutino con questo fondo sulla posizione più alta andiamo a creare una superficie interamente piana non che questa non lo sia già abbastanza però insomma dipende da che cosa dovete caricare a bordo dell'auto e in questo caso avrete veramente una superficie di carico notevole con oltre 1600 litri di volumetria furbo anche il sistema di aggancio della capelliera che è automatica e non dovrete più pensarci può essere ovviamente sganciata e svincolata per avere tutto lo spazio utile per caricare tutti gli oggetti e guardate veramente che superficie enorme di carico a questa macchina è incredibilmente versatile e difficilmente ho visto vetture con uno studio del portellone così furbo anche perché tutta la superficie che sto toccando è praticamente a filo con le pareti e di conseguenza mi dà pieno accesso all'auto tra l'altro è furbo poi questo sistema per la capelliera che viene integrato direttamente su questi ganci perché senza pensarci più si alza si abbassa si chiude e va a dare privacy anche alla zona posteriore poi detto questo io direi che in realtà ci siamo gli allestimenti non sto qua ripetervele li abbiamo visti all'anteprima internazionale di questo modello ma vi volevo parlare anzi fare due considerazioni su quest'auto ho parlato di maturità perché in tutto questo tempo lei ha avuto modo di migliorarsi di affinarsi perché CX60 è per noi appassionati un prodotto incredibile lasciate stare che sia un SUV che quelli sono vecchi rimasugli di chi ancora mi dice mai il deltone come si guida bene non è vero è una rottame perché CX60 è un prodotto veramente rivoluzionario in questo periodo storico perché fa trasparire veramente la volontà di Mazda di fare le cose giuste quindi non se ne frega niente del greenwashing che sta succedendo noi dobbiamo fare delle cose concrete e da zero fanno su una piattaforma a trazione posteriore che può essere anche a trazione integrale un'auto con un motore disposto longitudinalmente a trazione posteriore un 3.300 gasolio che non consuma niente non so se l'avete già visto lo vedrete ma abbiamo fatto una prova incredibile con CX60 abbiamo fatto quasi 1.400 km con un pieno e non è che l'abbiamo fatti per caso ho guidato io in due giorni per andare a Le Mans con delle tecnologie rivoluzionari quindi chapeau tanto di cappello chi nel 2023 si metterebbe mai a progettare da zero un motore 3.300 gasolio 6 cilindri beh loro l'hanno fatto e tra l'altro hanno anche sviluppato un cambio 8 rapporti che non mi è dispiaciuto per nulla ma tornando a CX5 vi dicevo la maturità perché se CX60 è un prodotto davvero interessante ci sono secondo me ancora 2-3 cosine che nonostante vadano bene sono da affinare ad esempio si percepisce come nella prossima generazione di CX60 sicuramente ci sarà un fine tuning diverso dello sterzo, delle sospensioni perché è normale, è appena stato presentato come prodotto e c'è margine e tempo di miglioramento invece lei è arrivata perché ha una taratura semplicemente perfetta un bilanciamento davvero precisissimo di tutta l'auto e un piacere di guida molto elevato l'unico appunto non riguarda il motore perché questa unità 2002 diesel si effettivamente inizia a sentire un po' i segni del tempo perché esiste da veramente tanto tempo all'interno dell'universo Mazda ma tanto per il cambio perché su CX5 è possibile scegliere il cambio sia manuale che automatico se rapporti ecco l'automatico se rapporti è un cambio che anche lì inizia a sentire un po' il peso degli anni è un convertitore di coppia, non è velocissimo, non è un fulmini di guerra lo salva una taratura davvero perfetta perché è molto morbido non è pretenzioso, non vuole essere un cambio veloce però ecco magari vedere un cambio diverso come scelta sull'automatico mi sarebbe piaciuto molto di più Aisin sta facendo secondo me degli ottimi cambi degli otto rapporti veramente magnifici che a livello di layout anteriore trasversale di questa vettura potrebbero anche essere integrati magari vedremo nella prossima generazione parlando di layout ovviamente questa qua è una vettura che nasce su una piattaforma motore trasversale di conseguenza la trazione prima anteriore può essere anteriore o integrale e nel caso della trazione integrale ovviamente abbiamo un giunto che manda al retrotreno coppia in caso di necessità una trazione integrale che tra l'altro funziona molto bene è comandata ovviamente da un sistema elettronico per la ripartizione della coppia e che vi può dare tranquillità qualora un veicolo a trazione integrale sia la scelta obbligata se vivete in contesti difficili come neve o quant'altro però bando alle ciance io ho fatto questo video per dirvi come mai mi ha convinto così tanto questa vettura alla guida vi svelo due segreti di pulcinella uno con una temperatura assurda come c'è fuori avere i sedili ventilati è una manna dal cielo ecco questa è un'altra cosa che sicuramente va aggiunta alla lista optional brava questa CX-5 che ce li ha due alla fine vi svelo uno dei tanti piccoli segretini di pulcinella di questo mestiere si capisce subito quanto studio c'è dietro una vettura da quanto poco tempo ci vuole per trovarsi a proprio agio con l'auto se voi non conoscete un'auto salite e in pochissimo tempo trovate subito confidenza vuol dire che dietro c'è stato tantissimo lavoro tantissime ore lavoro per trovare un fine tuning un bilanciamento della vettura ottimo e qua aspetto dirlo ma è così comunque intanto vi faccio anche vedere la visuale a 360 gradi dall'alto che viene ricreata grazie alle quattro telecamere di sistema e iniziamo a guidare quali sono le prime sensazioni che mi trasmette questo 2002 diesel che tra l'altro è un motore speciale perché si ripeto non è il nuovissimo 3.3 gasolius e cilindri con tutte quelle tecnologie particolari però comunque è un motore degno di nota perché pensate che ha un rapporto di compressione simile a quello di un benzina adesso ci arriviamo per punti però questa è un'unità che sviluppa quasi 450 Nm di coppia eroga 184 CV nella sua declinazione di massima potenza abbinata appunto a questo cambio automatico se rapporti e vi dicevo che è davvero speciale perché in pieno stile Mazda ci sono delle filosofie anche dietro lo sviluppo di questi motori diesel motori diesel che in questo caso hanno un rapporto di compressione davvero bassissimo 14 a 1 è molto simile a un benzina che arriva a 10-11 e molto lontano dai normali motori diesel che vanno dai 18 ai 20 che cosa significa? significa che è un motore che lavora con un rapporto di compressione inferiore sollecita meno le componenti meccaniche quindi grandissima affidabilità e ha un comportamento un po' più simile al benzina che cosa significa un po' più simile al benzina? benzina significa che è un motore che spinge pieno fino a 5.000 giri e vi ricordo che attenzione questo è un motore diesel il 1.750 della mia 159 benzina spinge a 5.000 giri ed è un benzina questo spinge a 5.000 giri ed è un diesel coniugando poi alcuni vantaggi dei motori diesel quindi la coppia è istantanea da subito già nella zona bassissima del contagiri infatti il motore lavora sempre a filo dei 1.500 giri minuto e dei consumi bassi poi su questa versione a trazione integrale con il cambio automatico non sono così bassi ma siamo intorno ai 7 litri ogni 100 km va benissimo per avere un SUV di queste dimensioni per avere la trazione integrale però rimane comunque una piccola pepita tecnologica che va capita per come è stata concepita fatto bene il motore c'è un'altra cosa che a me piace tantissimo di questa CX-5 che mi fa impazzire siamo abituati negli ultimi tempi, negli ultimi periodi ad avere macchine con un miliardo di possibilità di regolazione il che da un lato è un bene perché mi gaso molto quando posso cucirmi addosso la dinamica del veicolo di una vettura guardate la piattaforma MQB Ivo di Volkswagen che addirittura mi dà 15 step di regolazione del DCC che è il controllo elettronico dell'assetto davvero meraviglioso però dall'altra parte tutte queste modalità di guida non solo di Volkswagen ma di qualunque altro produttore che hanno sempre la modalità eco, normal, sport sa di qua, sa di là mi hanno sempre lasciato un po' così perché una cosa che apprezzavo delle macchine fino a poco prima del 2010 era che funzionavano esattamente come ti sedevi dentro io entravo, volevo andare forte la macchina era pronta così per andare forte volevo andare tranquillo la macchina era pronta così per andare tranquillo e non avevo delle modalità eco o normali dove se schiacciavo non avevo il 100% della potenza ma dovevo andare in modalità sport ecco, qua viene adottata la stessa filosofia senza bisogno di andare a cercare modalità sport su di qua, su di là, su di giù destra e manca semplicemente io mi siedo a bordo dell'auto e guido voglio guidare piano, guido piano voglio guidare più forte, guido forte non vado a regolare nulla di inutile e la cosa bellissima è che in tutte le situazioni io ottengo il risultato che voglio la cosa che però mi ha sorpreso è la qualità dell'assetto per assetto si intende come è stata studiata la dinamica del veicolo in risposta al suo telaio, alle resistenze del telaio in risposta alle sospensioni e alfa interlink che è stato fatto appunto su ammortizzatori, molle e quant'altro questa è una vettura che non vuole minimamente nascondere la sua indole pacata e tranquilla è un'auto che deve essere scelta e va scelta se cercate una vettura molto confortevole con cui viaggiare abbiamo visto la posizione di guida rialzata abbiamo visto una qualità delle tappezzerie molto elevata che mi consente di guidare davvero nella massima comodità possibile e anche tutte le tarature se a livello di sospensioni per come assorbe se a livello di tarature del cambio è molto dolce mi invogliano a una guida tranquilla poi posso forzare i ritmi posso chiederli di più lei mi dà di più ma sempre tenendomi in questa sfera in questa culla di comodità che apprezzo tanto si capisce poi che c'è tanto studio di dinamica del veicolo su un'auto che ha un buono schema sospensivo davanti abbiamo un sistema MacPherson dietro un multilink un multilink è una sospensione davvero avanzata perché quando la mettiamo in crisi adesso là in fondo faccio una cosa veramente cattiva arrivo picchiato imposto la curva freno in mezzo vediamo che cosa succede vi anticipo quello che accadrà e quello che accadrà è che non sbava facciamolo adesso facciamolo a cattiveria precisa perfetta non ha movimenti strani di telaio sta lì non ha fatto una piega non mi ha sballonzolato non ha fatto nulla perché la macchina è incredibilmente bilanciata si vede che ci sono state tante ore di collaudo si vede che per come lavorano le sospensioni sono state studiate per funzionare al massimo dell'espressione di questo telaio e si traducono a me che la sto guidando in una tranquillità in una sicurezza davvero molto elevata quando guido questa macchina sono molto tranquillo perché non mi aspetto nessuna reazione esterna so sempre che la vettura starà al suo posto farà tutto quello che le chiederò e mi sento molto rilassato anche a portare in giro quest'auto è un'altra cosa che mi è piaciuta molto le sospensioni tra l'altro lavorano molto bene perché assorbono benissimo tutto tombini, dossi, avvallamenti hanno una bella escursione quindi si può giocare chiaro non stiamo guidando una MX-5 si sente che stiamo guidando una macchina alta ma tutto sommato devo dire che per avere una trattura così morbida e così confortevole ha anche delle buoni doti di handling perché pur sempre questa è una Mazda è una Mazda che ricorre alla tecnologia per avere una precisione totale dei comandi sterzo una tecnologia che continua a monitorare il grip di ogni ruota per andare a rispondere ed aiutarci con l'elettronica senza che noi ce ne accorgiamo nel rinvio della coppia nelle micro frenate nelle micro pinzate selettive sulle ruote per avere un'auto che riesce a comportarsi molto bene e soprattutto a darmi una bella qualità alla guida tutto questo viene condito poi con tutto il lavoro che è stato fatto a livello di assemblaggi in queste due settimane io non ho mai sentito uno scricchio lì o proveniente dalla vettura in nessuna situazione né si tiro un'inchiodata fortissimo come ora né se vado a fare il cattivo con il telaio quindi faccio questa roba e né se tocco tutta la macchina una qualità degli assemblaggi che mi ha veramente veramente sorpreso è difficile trovare vetture che in nessun punto scricchiolano e Mazda c'è riuscita e detto questo io la posso anche chiudere la prova scherzo e parte è un'auto incredibilmente versatile è una macchina molto tranquilla è una macchina che deve essere apprezzata per la qualità giapponese con cui è costruita per le scelte che Mazda continua a portare avanti a livello di progettazione soprattutto the powertrain una vettura che sono sicuro durerà tantissimo nel tempo e la garanzia che viene offerta da Mazda lo testimonia perché tutte le auto adesso che vengono acquistate vengono offerte con 6 anni di garanzia e tendenzialmente un produttore non dà 6 anni di garanzia quindi vuol dire che si fidano del prodotto sanno che tutte le componenti sono ipercollaudate e sanno che sarà una vettura capace di resistere bene al tempo una qualità di guida se guidate tranquilli superlativa delle prestazioni che ci sono chiaro questo motore con questo rapporto di compressione con questo cambio eccetera eccetera non è un fulmine di guerra abbiamo un 6184 cavalli va sì forte perché va a 210 km orari lo 0100 è coperto in poco più di 9 secondi ma va benissimo per il tipo di guida è un'auto che mi accompagna molto bene in tutte le mie giornate quindi mi è piaciuta davvero tanto ma scendiamo che tiriamo due conclusioni e questo è stato il succo fulcro del discorso ovvero quando una macchina è fatta bene è tarata allo stato dell'arte ed è perfetta sotto il punto di vista della taratura della sua identità noi non abbiamo bisogno di fare niente ci dobbiamo solo sedere e iniziare a guidare ci troveremo immediatamente a nostro agio ecco questo è quello che ha fatto questa CX-5 è quello che in questi anni è riuscita ad ottenere come risultato e che mi ha fatto capire che in realtà lei è ancora l'ammiraglia di Mazda lo è secondo me è ancora più a fuoco nel nostro mercato anche perché è un pochettino più piccola della CX-60 che comunque sta ottenendo buoni risultati di vendita un'auto che non deve minimamente passare in secondo piano e anzi un'auto che secondo me ha ancora tanto tanto da dire motorizzazione da scegliere auto del genere che secondo me sono ancora tanto stradiste chiamano diesel quindi al netto di tutto io prenderei in ogni caso il 2002 gasolio 2002 gasolio che ha anche più varianti di potenza quella più gustosa è quella che la macchina si merita è quella più potente che abbiamo avuto in prova c'è poco da c'è poco da dire stessa cosa per il cambio alla fine si costa quasi 2000 euro in più il cambio automatico si non è un doppia frizione che spara dentro i rapporti come su una Huracan ma funziona bene e accompagna bene l'insieme di guida tranquilla che questa CX-5 vuole offrire quindi consiglio spassionato non lesinate prendete una versione magari la Omura che è ancor più a livello di allestimento optional rispetto alla versione base prendete il cambio automatico perché ne va della qualità di guida e ne va anche dell'assistenza alla guida di quest'auto e vedete un po' che cosa può dirvi questa CX-5 una volta che vi ritrovate al volante davvero un concetto di Jinba Itai secondo me ben riuscito è secondo me la seconda auto e questa è forte come cosa dopo MX-5 a farmi sentire così tanto questo concetto decantato da Mazda ed è un'auto che mi è piaciuta davvero tanto ma sono curioso di sapere da voi che cosa ne pensate quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video sempre su Automoto ciao ciao